Il ponte sullo stretto non è finanziato nel DEF? Non mi sembra una notizia. Si sapeva che nel documento di economia e finanza non ci sarebbero state le risorse per questa grande infrastruttura. Lo ha detto Roberto Chiudo, presidente della regione Calabria, intervenendo a 24 mattino sul Radio 24. Si tratta di risorse da reperire in legge di bilancio e poi attraverso il confronto con l'Europa. C'è la disponibilità delle due regioni più immediatamente interessate, la Calabria e soprattutto la Sicilia, a partecipare al finanziamento di quest'opera pubblica. Per cui, c'è sicuramente la volontà di realizzarlo, bisogna solo individuare le forme di finanziamento comunitarie italiane. Attraverso l'Europa ci sono risorse importanti. Si tratta di riprogrammarle nella direzione di investire in quest'opera strategica per il nostro paese, ha sottolineato il governatore Chiudo.